Ok, anche il prossimo grano è nuovissimo, scritto da poco, darà il titolo al nuovo album, il titolo è Un istante. Quanti di voi hanno avuto Un istante nella propria vita che è rimasto indelebile? Un istante. La farmacia che è pronta sia Per ogni tua malattia La garanzia che è tutto sia Davvero in allegria La garanzia che è il sorriso Quando viene con il viso E il sorriso Che contagia un altro viso E in un istante sboccerà E in un istante devi coglierla E in un istante abbassirà la felicità Come una rosa E in un istante La della 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.